Ciao e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla Fire TV Stick qui sul mio canale. Allora vi dico subito che questo video è estremamente importante, sono sicuro che lo troverete molto utile perché vi mostrerà un menu segreto all'interno della vostra Fire TV Stick che vi consente di attivare diverse opzioni molto interessanti e decisamente utili per utilizzare il vostro dispositivo Amazon al pieno delle sue potenzialità. Allora senza stare a denunciarmi troppo in chiacchiere inutili andiamo subito a vedere come riuscire ad attivare questo menu segreto sulla vostra Fire TV Stick. Prima però ho bisogno del vostro aiuto ovvero che voi essendo l'avete ancora fatto vi iscriviate qui sul mio canale lasciate un like al termine di questo video se mi avrete trovato davvero interessante e soprattutto ho bisogno che attiviate la campanella perché questo vi consentirà di vedere tutti i miei video in anteprima dedicati al mondo della tecnologia e soprattutto alla Fire TV Stick. Allora bando alle ciance andiamo a vedere come attivare questo menu segreto. Allora eccoci qua sulla schermata principale della Fire TV Stick una piccola premessa vi dico subito che questo menu segreto è attivabile su tutti i dispositivi Amazon su tutte le Fire TV Stick di ultima generazione. Che cosa vi servirà? Vi servirà naturalmente il vostro telecomando perché quello che attiverà questo menu sarà una combinazione di tasti specifici. Allora andiamo subito a prendere il nostro telecomando. Quello che dovrete fare sarà premere e tenere premuto il tasto centrale del telecomando e la ghiera della parte inferiore. Vedrete scorrere velocemente il menu. Dopo due secondi lasciate andare e premete sul pulsante con le tre lineette orizzontali. Ecco qua come vedete il menu strumenti sviluppatore 5.01. In questo caso questa è la versione attuale. Qui ci sono tutta una serie di opzioni che vi andranno ad attivare altrettante funzioni nascoste ai meno esperti naturalmente. Quindi se avete intenzione poi di andare un po' a spunciare su questi menu fatelo solamente con condizione di causa. Non fatelo tanto per fare perché poi potrebbe questo andare a compromettere il corretto funzionamento della vostra Fire TV Stick. Allora primo menu come vedete in alto è l'X-Ray Sistema che ti consentirà di vedere alcune informazioni di sistema della tua Fire TV Stick. Infatti guardate se noi andiamo ad attivare è comparsa in alto sulla sinistra questa sorta di barra all'interno della quale voi potete vedere non solo informazioni legate alla frequenza e alla risoluzione del vostro dispositivo ma cosa più importante nella parte centrale voi andate a vedere come in questo momento le applicazioni per esempio in questo caso il launcher vedete sotto indicato della vostra Fire TV Stick sta mettendo sotto pressione le risorse hardware del vostro dispositivo. Questo può essere molto utile soprattutto se voi vi rendete conto che quella determinata applicazione sta dentennando nella per esempio riproduzione di contenuti streaming, spesso si blocca, c'è molto buffering ecco questa funzione ti consente di vedere se effettivamente sta per esempio assorbendo troppe risorse, ne avete troppo poche disponibili quindi forse è il caso o di svuotare la cache ricordo che io ho fatto un video dedicato proprio al come svuotare la cache delle applicazioni sulla Fire TV Stick oppure probabilmente è il caso di eliminarla perché non adeguata alle prestazioni della vostra Fire TV Stick quindi è sicuramente questa un'opzione che insieme poi a come vedete il nome sull'estrema destra della connessione a cui siete collegati vi dà alcune informazioni tecniche molto interessanti andiamo a disattivarla perché non ci serve il menu sottostante è un menu che diciamo un po' più per gli smanettoni perché vedete che vi consentirà poi di attivare di visualizzare le informazioni multimediale di quel determinato contenuto quindi per esempio se voi attivate questa funzione mentre state guardando un contenuto streaming sulla destra vi compariranno quelli che sono le informazioni multimediali quando gli api Android e i media codec vengono utilizzati da quel determinato contenuto poi vedete subito sotto c'è una sottosezione indicata al pannello di configurazione che io vi suggerisco di lasciare così come è impostata cioè con le funzioni spente perché vanno ad in a modificare alcune impostazioni che poi non vi consentirebbero di vedere in maniera ottimizzata ciò che state guardando su una file tibustiche mentre molto molto utile qui vedete c'è subito la possibilità di attivare le opzioni sviluppatorie ovvero quel menu di cui io spesso parlo nei miei video che è stato semplicemente nascosto a protezione della file tibustiche ma che consente per esempio la possibilità di andare a scaricare di installare applicazioni non presenti nello studio ufficiale di Amazon provenienti magari da terze parti ma assolutamente legali e funzionanti anche in questo caso è un'opzione molto importante che potete attivare da qui invece di passare dalla procedura ormai storica che prevede sempre il telecomando ma con un numero ben preciso di clic sul pulsante centrale io l'ho già attivata nell'altro modo e quindi come vedete non ne ho bisogno un altro menu importante è questo che vedete avviso avvio di rete se avete per esempio problemi di connessione o vi rendete conto che la velocità con cui state navigando e vedendo quel contenuto tentenna questo vi rimanda immediatamente alle impostazioni di rete della fire tv stick qui potete o eseguire un test di velocità così da verificare il tutto ma anche vi può essere utile per verificare che siete collegati a una rete a 5 gigahertz che è quella ottimale per la fire tv stick come si esce dal mio strumento sviluppatore semplicissimo con il tasto indietro quindi la freccina inarcata di fianco al pulsante con la casina centrale vi permetterà di uscire dal me e tornare a una schermata principale della fire tv stick direi che questo video sicuramente vi sarà molto utile vi ricordo avete bisogno del telecomando dovete seguire una procedura ben precisa in merito alla composizione dei tasti se non dovesse funzionare al primo colpo riprovate perché vi garantisco che è attivabile su qualsiasi dispositivo se avete delle domande in merito alla fire tv stick vi ricordo che potete scriverle qua sotto nei commenti direi che per questo video è tutto ma solo per il momento Andrea Mirialias.Zivago vi saluta e vi rimanda al prossimo video ciao a presto